Yvonne, ma tu non fumi più? No, io vengo, ho smesso. Fortunato, ma come hai fatto a smettere? È stato semplice. Cioè? Sono andato da un dottore, il quale mi ha dato un ottimo consiglio. Fuma soltanto dopo che hai fatto l'amore. È così che sono riuscito a smettere. A me che a San Zon. Messi e mesi.